Gennaro Duro spiega le problematiche che soffrono i commercianti di Angri di via Incoronati e via Amendola, in seguito all'istituzione di una zona a traffico limitato nello scorso mese di luglio. Inoltre Gennaro Duro si fa portavoce degli altri esercenti accusati da Mauri di averlo offeso nella sua istituzione di sindaco e chiarisce che si può parlare di critica esclusivamente, ma mai di minacce. Il sindaco, almeno come ha detto su, è il padre di tutti. Il padre di tutti si vorrebbe preoccuparsi del problema che c'è in quella strada, perché noi non riusciamo a spiegarci perché 80 metri di strada servono a stare chiusi. Quando ci trovavamo, il punto in bianco, questa sbarra in mezzo alla strada, ci disse che era un esperimento per 3-4 mesi, all'epoca c'era il consigliere D'Auria, che ci disse che stiamo approntando il piano viabilità, dopo il piano viabilità chiuderemo tutto il centro storico per mettervi tutti allo stesso livello, cosa che sono 9 mesi, non è stato fatto in quanto perché io dovrei vendere un pacchetto di sigarette, gli altri 3, perché quello deve vendere 3 capi di abbigliamento e l'altro uno. E così e via dicendo, quando i nostri clienti ormai stanno facendo il giro, trovano più comodo fermarsi vicino all'esercizio che gli consente la fermata, non parlo di sosta, la fermata, a noi ci stanno dimenticando, hanno il terrore di entrare nella strada perché si trovano i vigili addosso, proprio in modo, veramente non sappiamo che cosa ha ordinato lui, perché da noi c'è questa punizione in atto, però al confronto lui molte volte ha sbandierato che se non avessimo finito di manifestare ci avrebbe chiuso a 24 ore, quindi il terrore da parte di certi esercenti di essere chiusi a 24 ore la dice lunga. Gennaro Duro, parliamo di queste minacce che il sindaco dichiara di aver subito, cosa sono state queste minacce e chi le ha poste in essere? Io non ero presente, devo dire la verità, quando è successo questo fatto ingrescioso, detto dal sindaco sui giornali che ho letto, io non ero presente, però poi mi sono informato e sembra che non sia così, sembra che non sia così, sembra che l'intimidazione sia stata proprio dall'altro campo, che entrando nei pubblici esercizi, con un modo di fare che è molto lontano da quella persona che dovrebbe essere, secondo me, il sindaco che dovrebbe, perché ricordo qualche sindaco, ho 55 anni e ricordo molti sindaci, si preoccupavano più che altri, venivano a parlare da noi, ci chiedevano se avevamo problemi, c'erano, cioè non c'era questa cosa di muro contro muro così forte che, però ogni sindaco ha il suo carattere e lui ha il suo, però noi non possiamo sempre sottostare a continue ritorsioni, di chiusure di 24 ore, 24 ore, anche se devo dire che lui ci è venuto incontro da 24 ore, ci ha portato a 4-5 ore di apertura. L'assessore provinciale Antonio Squillante è intervenuto al fianco dei suddetti commercianti, per il leader cittadino del PDL, la zona traffico limitato è nata esclusivamente da un capriccio del sindaco ed è stata istituita senza fare analisi di alcun tipo. Noi in Consiglio Comunale, con un'interrogazione in diverse circostanze, come dire, avevamo avvisato il dottore Mauri che questo provvedimento era un provvedimento inutile e che era dannoso. Adesso, come dire, quando le stoviglie si sono rotte, adesso inizia a fare la vittima dicendo appunto che è stato aggredito, che ci sono questi volantini. Però io voglio ricordare al dottore Mauri che anche Ben Ali, Mubarak, hanno fatto le vittime e poi abbiamo visto che fino ad hanno fatto. Lui poi ha anche un'assonanza, perché con la lingua mi sa che con l'arabo ci c'entra e quindi alla fine come si esprime è molto simile a questi dittatori, ma anche nell'atteggiamento. Quindi sicuramente, come dire, il sindaco deve ripensare fortemente a quello che sta facendo. Non è facendo delle querele, dei provvedimenti, come dire, inquisitori nei confronti di commercianti che liberamente esprimono il loro dissenso. La democrazia è anche questo. Non è che può pensare semplicemente perché lui è sindaco, è inattaccabile, nessuno lo può criticare, nessuno può dire che la sua azione è sbagliata. Anzi, glielo diciamo tutti quanti, la minoranza e ormai i cittadini, la stragrande maggioranza. Quindi il dottore Mauri deve iniziare a capire un pochino che il clima sta cambiando, le elezioni sono passate, adesso deve affrontare e risolvere i problemi dei cittadini, problemi che lui non riesce ad affrontare, oppure si affronta in malo modo e quindi solleva appunto questo malcontento e questo dissenso. Poi un'altra cosa simpatica è che i suoi pretoriani, questi consiglieri che appunto sono scesi giustamente in campo a difendere il loro piccolo imperatore, che cerca, come dire, di difenderlo, di sostenere appunto che fa bene, che si sacrifica per la collettività. Io voglio ricordare che tutti si sacrificano, chi per la collettività, chi per la propria famiglia, per il proprio lavoro. È inutile sbandierarlo. Ha vinto le elezioni, deve governare come tanti sindaci del comprensorio, d'Italia direi, e quindi di conseguenza non illudono nessuno, non prendono in giro nessuno. E loro su questo sono molto bravi e capaci, perché stanno in un comunicato, hanno detto appunto che c'è stata concertazione, condivisione. Se ci fosse stata vera concertazione, vera condivisione su questo provvedimento, così come in tanti altri provvedimenti, che loro sbandierano come volontà appunto di coinvolgimento del popolo e della gente, ma in realtà non hanno nessun interesse e nessuna voglia di condividere un bel niente appunto con i cittadini, ebbene stanno dicendo in maniera falsa, ma lo sanno ormai tutti quanti, anche le pietre, che questo provvedimento lo hanno deciso loro dentro una stanza chiusa, in poche persone, ed è un provvedimento appunto che è una schifezza, lo possiamo dire tranquillamente.